Mirella Cerini resta in campo, molte le cose fatte, tante quelle ancora da completare, sfide che la sindaca di Castellanza per carattere e coerenza vuole portare a termine e che per questo l'hanno convinta a sciogliere le riserve e dirsi pronta un secondo mandato. Ci sono progetti che non riusciremo sicuramente a concludere entro il termine di questo mandato che mi piacerebbe quindi avere la possibilità di terminare e direi non è stata ancora ufficializzata però l'intenzione di una ricandidatura ovviamente c'è, è forte, ma soprattutto perché abbiamo tanto ancora da fare e tanto da concludere. Che bilancio traccia del suo mandato da sindaco? Beh, è un bilancio sicuramente positivo, sono tanti i progetti che siamo riusciti a concludere sempre dedicando molta attenzione alla cura della nostra città e a quelle che erano le richieste dei nostri cittadini. Abbiamo anche lavorato sulla rendere il nostro bilancio un bilancio solido concludiamo, e lo abbiamo appena approvato nell'ultimo consiglio comunale, il bilancio consultivo concludiamo con un avanzo disponibile di amministrazione pari a 1.400.000 euro. Siamo arrivati ad un pagamento dei fornitori nel 2016 a 120 giorni e chiudiamo con il pagamento dei fornitori a 21 giorni. Nel frattempo Cerini invita la popolazione femminile ad approfittare della due giorni di visite gratuite prevista il 22 giugno e il 7 luglio nell'ottica della prevenzione con prenotazione obbligatoria. Il cancro al seno è un vero e proprio flagello, ma le percentuali di guarigione sfiorano il 90%. Unica condizione, la diagnosi precoce, da qui l'importante accordo con la Lega Tumori, l'associazione Varesina ODV e il prezioso supporto di SST Valle Olona e Castellanza Servizi. Se da un lato stiamo affrontando tutte le problematiche legate al Covid, non possiamo tralasciare il fatto che ci sono altre patologie che probabilmente sono state trascurate durante questi ultimi mesi, ma riparlare di normalità passando attraverso la prevenzione riteniamo anche come amministrazione sia fondamentale. Grazie. 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 Grazie.